effetto omicron 30.000 marchigiani sono in quarantena ricci prepara gli stati generali di metà mandato green pass e bollette salate piscine palestre in ginocchio cantere wider pronto a cambiare il porto di fano buona serata e benvenuti al nostro telegiornale di oggi giovedì 13 gennaio che apriamo facendo il punto su un'emergenza sanitaria che sta isolando in quarantena più di 30.000 marchigiani quarantene che stanno creando problematiche che vanno dalla scuola agli ospedali vediamo il servizio il dato è impressionante più di 30.000 marchigiani sono attualmente in quarantena fra contagi e contatti diretti con casi positivi di questi più di 22.000 sono asintomatici numeri che dicono quanto omicron sia contagiosa e quanto allo stesso tempo abbia un impatto ridotto su una popolazione regionale sempre più vaccinata marche che tra l'altro continuano a gonfiare il conto delle vaccinazioni con due giorni consecutivi alla cifra record superiore alle 19.000 inoculazioni le quarantene però mandano in tilt alcuni settori chiave perché in ambito scolastico ci sono più di 200 classi marchigiane in quarantena e più di 300 in didattica a distanza defezioni di massa anche nel personale scolastico dove si sta rincorrendo una caccia al supplente ma il dato più preoccupante sono i 315 operatori sanitari attualmente in isolamento nelle marche di cui 60 a marche nord un ospedale pesarese già allo stremo che come ricordato dal sindaco ricci si sta facendo carico di più del 40 per cento dei pazienti contagiati della regione ricci fa pressione sull'amministrazione regionale per un riequilibrio di situazione e gli fa eco il consigliere biancani che chiede la riapertura del covid hospital di cività nova salta martini bilancia la situazione annunciando l'attivazione per venerdì di 10 nuovi posti letto di terapia intensiva 5 torrette e 5 a pesaro proprio l'ospedale san salvatore da lunedì aperto anche il nuovo ambulatorio anti ricoveri un ambulatorio per i pazienti affetti da covid 19 non gravi che si puntano a curare senza ospedalizzazione ma con gli anticorpi monoclonali e con le nuove compresse antivirali remdesivir e monlupiravir effettuati primi 16 trattamenti al momento quasi tutti con i monoclonali una terapia che viene effettuata in ambulatorio con i pazienti poi rimandati a casa è partito intanto anche lo sdoganamento della validità dei tamponi rapidi per diagnosi di positività e guarigione al covid una pratica che dovrebbe snellire la lentezza delle verifiche con molecolare e le annesse fila il drive tamponi ma che allo stesso tempo rischia di sovraccaricare oltremodo i medici di famiglia già inondati di richieste richieste di tamponi rapidi schizzati alle stelle anche nelle farmacie comunali di pesaro e gabice passate da 650 test quotidiani a 900 la regione marche ha ufficializzato questo pomeriggio luoghi e orari del preannunciato screening gratuito per gli studenti delle scuole superiori che si terranno sabato 15 e domenica 16 gennaio con 15 postazioni in regione in provincia di pesaro urbino gli studenti fra i 14 e 18 anni potranno presentarsi al tampone gratuito a pesaro nel punto tamponi di via lombardia sabato fra le 14 e 30 e le 18 al codma di fano domenica dalle 8 alle 13 e al punto tamponi in località sasso di urbino sempre domenica fra le 8 e le 13 piccoli segnali incoraggianti dal report giornaliero del servizio sanitario regionale cala infatti l'incidenza da contagio attestandosi ora a 813 casi settimanali ogni 100.000 abitanti numeri emersi dai 1955 contagi di oggi di cui 340 in provincia di pesaro urbino lieve calo anche dei ricoveri con un paziente in meno rispetto a ieri 326 le degenze di cui 59 in terapia intensiva da segnalare tre nuovi decessi due uomini e una donna di età compresa fra 63 e 94 anni tutti residenti nella provincia di fermo tragedia ieri pomeriggio a mignano dove un ragazzo di 26 anni si è tolto la vita con il fucile da caccia del nonno mentre si trovava a casa di quest'ultimo nella frazione di san silvestro proprio il nonno ha dato l'allarme ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso vicino al corpo del ragazzo una lettera contenente le motivazioni dell'insano gesto ed ora cambiamo completamente argomento arriva a metà mandato il percorso da sindaco di matteo ricci che assieme alla giunta illustrerà le prossime sfide negli stati generali di mid term un appuntamento che si terrà sabato a partire dalle 10 al teatro sperimentale e non più al teatro rossini come inizialmente prefissato giornata a roma per il sindaco di pesaro matteo ricci che oltre ai personali impegni politici istituzionali ha voluto presenziare in campidoglio all'ultimo saluto al presidente del parlamento europeo david sassoli ora si torna pesaro dove ricci è atteso al giro di boa del suo mandato da sindaco metà percorso che il primo cittadino analizzerà apparecchiando sabato 15 gennaio la novità degli stati generali di mid term ovvero una riunione plenaria che si diramerà in tavoli di lavoro suddivisi mattina e pomeriggio fra i vari assessorati che forniranno l'occasione per aggiornare il programma di lavoro insieme alla città mettendo sul piatto idee e sfide dei prossimi mesi partendo da due questioni fondamentali la perdurante emergenza sanitaria e i contributi dal piano nazionale di riprese e resilienza che arriveranno nei prossimi mesi cambia il centro nevralgico degli stati generali non sarà più il teatro rossini come annunciato fino a ieri ma il teatro sperimentale dove ricci sabato alle 10 terrà la sua relazione introduttiva per poi attivare dalle 11 30 alle 16 i tavoli di lavoro dei vari assessori sparsi fra palazzi del centro mila della dora allo stesso sperimentale enzo belloni ai dimorotti nel palazzo del comune francesca franquellucci e i nuovi assessori luca pandolfi e camilla murgia a palazzo gradari daniele vimini a palazzo mazzolari riccardo pozzi alla chiesa dell'annunziata si può partecipare agli stati generali inviando una mail d'adesione a info chiocciolacomune.pesero.pu.it entro le ore 13 di domani venerdì 14 gennaio e tra l'altro vi ricordiamo che potrete seguire i momenti salienti degli stati generali di mid term sabato in diretta su rossini tv in due appuntamenti cioè al mattino alle ore 10 in concomitanza alla relazione introduttiva del sindaco ricci e poi la diretta riprenderà alle ore 16 in occasione della chiusura dei lavori dal comune di pesaro passiamo ora alla regione marche che questa mattina con l'assessore all'edilizia stefano aguzzi il presidente dell'erape marche massimiliano bianchini ha presentato i progetti di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica inseriti nell'ambito del programma sicuro verde e sociale si tratta di un'assegnazione di fondi dal pnrr che attribuisce alle marche ben 62 milioni di euro che permetteranno di finanziare 50 interventi soddisfacendo richieste di comuni e erap per riqualificare 371 alloggi è un momento molto delicato per piscine e palestre dallo scorso 10 gennaio nei centri sportivi come ben sapete si entra solo se muniti di super green pass altro limite ad una fluenza già ridotta che si scontra con l'aumento vertiginoso delle bollette come ci spiega in questa prossima intervista andrea sebastianelli presidente di sport village della piscina olimpionica del parco della pace noi il grosso del del taglio di affluenza l'abbiamo avuto a febbraio del 2020 vabbè quando quando è partito il covid diciamo da 5 mila frequentatori che eravamo abituati ad avere ci siamo ridotti all'inizio di un 60 per cento e oggi ci attestiamo su un 40 per cento in meno quindi stiamo andando avanti avendo un potenziale più che doppio rispetto alle persone che ospitiamo le persone che ci frequentano sono quasi tutte già erano a dicembre già quasi tutte in possesso del green pass rafforzato quindi avevano fatto già le dosi di vaccini e posso dire che coloro che non erano vaccinati oggi pur di più della metà di coloro che ci frequentano che non erano vaccinati oggi pur di non rinunciare alla piscina decidono di vaccinarsi quindi per noi alla fine il dopo il 10 gennaio è cambiato ben poco il taglio grosso l'avevamo già subito in precedenza c'è poi una problematica diversa quella che riguarda un po' tutta la popolazione i rincari delle utenze una situazione che in un impianto di questa portata con costi già elevati per il riscaldamento il gas eccetera si sente in maniera importante sì noi abbiamo già attivato da dicembre un tavolo con il comune di pesaro e un tavolo con la regione marche un tavolo insieme a tutti i gestori della regione marche siamo in 26 26 soggetti privati e pubblici che gestiscono tutte le piscine pubbliche della regione marche per discutere affrontare l'argomento per trovare una soluzione a mio avviso la soluzione non è aumentare i costi del degli abbonamenti aumentare i prezzi ma dobbiamo trovare una soluzione condivisa con con il proprietario delle piscine che nel nostro caso il comune ma anche con la regione o con il governo perché comunque noi svolgiamo eroghiamo un servizio socialmente utile e in questo momento per farvi l'esempio il mese di dicembre 60 mila euro di gas contro i 20 mila euro che di solito si pagavano per noi significa spendere più di quello che normalmente incassiamo ora è un problema che non credo sia limitato alla piscina di pesaro certo noi siamo una piscina particolare perché è l'unica piscina olimpica della regione marche le piscine olimpiche consumano come tre piscine normali da 25 metri quindi noi è come se avessimo quattro piscine da 25 metri come costi e quindi siamo appunto sotto sotto schiaffo in questo momento perché siamo tra quelli che sono messi peggio dal punto di vista dei consumi di metano gli uffici pubblici sono sempre più a rischio di ingorghi assembramenti a tal proposito marche molti servizi ricorda in questa prossima intervista la validità di tanti servizi fruibili in forma digitale senza rischi di code e attesa agli sportelli noi abbiamo da sempre assicurato una capillarità attraverso i nostri sportelli periferici abbiamo 19 sportelli su tutto il territorio tutta la provincia di pesaro urbino che sono il nostro valore aggiunto per il territorio chiaramente in questo periodo di emergenza sanitaria che ha investito tutto il nostro paese pur mantenendo i servizi tutto attivo e garantendo la regolarità qualche disagio chiaramente dovuto a assembramenti e presenze potrebbe esserci quindi la nostra richiesta verso la cittadinanza per cercare di garantire la salute di tutti i cittadini, i dipendenti è chiaramente quello di utilizzare il più possibile canali diversi dalla presenza fisica allo sportello noi abbiamo attivi la nostra mail clienti chiocciola gruppomarchemultiservizi.it abbiamo da anni un call center dedicato che è un numero di telefono gratuito messo a disposizione della cittadinanza l'800-600-999 che attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00 oppure abbiamo il nostro sito internet quindi www.gruppomarchemultiservizi.it a cui si può accedere e iscriversi allo sportello online abbiamo rafforzato la nostra presenza di operatori di BEC proprio per rispondere in modo tempestivo alle richieste che possono pervenire con questi canali digitali la preghiera che facciamo a tutti è di utilizzarli il più possibile in questo periodo sperando tutti che possa finire presto Quali sono le richieste principali che affrontate quotidianamente e che possono comunque essere soddisfatte a distanza? Le richieste sono tutte le richieste che possono pervenire dalla cittadinanza quindi dalla richiesta di preventivazione, di allacci, installi contatori, richiesta chiarimenti bolletti info varie, informazioni sui pagamenti, informazioni sui servizi offerti quindi l'idrico e l'atari qualsiasi tipo di necessità abbia l'utente che usufruisce dei nostri servizi può richiederli assolutamente con i canali digitali quindi non è assolutamente necessaria la presenza fisica garantiamo la risposta in giornata al massimo entro la giornata successiva quindi stiamo facendo il possibile per metterci proprio a disposizione degli utenti Tentato furto ieri in una villa di Cartoceto dove alcuni malintenzionati hanno tentato di penetrare in un'abitazione spaccando il vetro di una finestra ma l'allarme coordinato alla vigilanza privata Vigilar a corsa sul posto ha sventato il furto costringendo i ladri a dileguarsi a mani vuote Dopo la nevicata della scorsa domenica continua la settimana ad affluenze nelle montagne del nostro entroterra oggi hanno aperto le sciovie del Monte Nerone finora chiuse questa sera torneranno ad aprirsi in notturna quelle dell'eremo di Monte Carpegna a due anni dall'ultima accensione dei riflettori mentre aprirà sabato la cabinovia Cotaline sul Catria parte sabato la rassegna teatri d'autore che mette in rete otto teatri della provincia quelli di Gradara, Macerata, Feltria Monbaroccio, Mondavio, Pergola, San Costanzo San Lorenzo in campo e Urbania previsti 26 appuntamenti che partono sabato 15 gennaio dal Teatro della Concordia di San Costanzo con Piazza Grande, tributo a Lucio Dalla fra gli spettacoli previsti anche il malato immaginario Antro Polaroid con Tindaro Granata Raffaello Il Figlio del Vento con Mattias Martelli Teste con Roberto Ciuffoli e Benedetta Broccoli e Parlami d'Amore con Francesco Branchetti e Nathalie Caldonazzo Spazio anche al Teatro Comico con Sapore di Sale Grosso del San Costanzo Show Ed ora ci spostiamo a Fano un maxi cantiere per la costruzione di grandi imbarcazioni è quello desiderato dalla società Wider per il porto di Fano un progetto avveneristico che creerebbe 400 nuovi posti di lavoro ma che fa già discutere per il suo impatto estetico vediamo quindi il servizio di Simone Celli non chiamatelo cantiere navale quello auspicato dalla società Wider è piuttosto un centro di ricerca per l'innovazione della nautica dove? Nell'area del porto di Fano a fianco della passeggiata dell'Isippo si tratterebbe di una struttura futuristica e a impatto zero in legno e vetrate suddivisa in due campate una per la costruzione di imbarcazioni in acciaio e alluminio l'altra per l'assemblaggio di catamarani in vetro resina sopra due piani di uffici con uno spazio anche per studenti e start-up la Wider fa barche che sono dei prototipi cioè la Wider è un centro di ricerca per la propulsione green nel mondo della nautica costruiamo propulsione elettrica e green per cantieri terzi quindi quello che uno vede all'ingresso non è un pentiere navale ma più un centro di ricerca e in questo noi ci stiamo adoperando per dare l'opportunità anche a ricercatori italiani e esteri di venire e progettare da noi un investimento di circa 20 milioni di euro che potrebbe portare 400 nuovi posti di lavoro intanto è già stata presentata una bozza del progetto scatenando non poche polemiche non vedo controindicazioni innanzitutto c'era un progetto fermo lì da 20 anni in una parte della città che potrebbe essere sfruttata in senso buono potrebbe essere utilizzata molto meglio di un mucchio di sabbia come c'è stato per 20 anni è un'area destinata a cantiere navale e quindi ci siamo permessi di entrare a vedere se c'è la possibilità di espandersi sulla città di Fano che io pian piano ho conosciuto e devo dire è una città della quale me ne sono innamorato quindi per noi è importante inserirci in un contesto sappiamo dove ci inseriremo e ovviamente per uno stabilimento tipo alla zona industriale portuale di Ancona potresti fare un bel blocco di cemento bianco o grigio che sia sappiamo che quello è un contesto differente quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa di più bello siamo molto sensibili, noi costruiamo bellezza oltre che tecnologia a far discutere sono soprattutto le possibili dimensioni dell'immobile già ridotte da wider dai 10.700 metri quadri iniziali a circa 8.200-8.500 metri per non parlare dell'altezza quei 24 metri hanno fatto storcere ben più di un naso un dibattito questo? che rischia quantomeno di rallentare l'eventuale posa della prima pietra possibilmente per wider non oltre l'inizio dell'estate noi alla fine abbiamo trovato un compromesso in 24 metri siamo partiti dal considerare il nostro cantiere vicino che è a Pesaro, che è il cantiere Rossini, che è alto 28 il fatto di chiedere un'altezza di quel tipo, dei 24 metri non è che, come ho letto l'amministrazione ha concesso ciò che si chiede perché in realtà il progetto che è già stato approvato da questa amministrazione anni fa e che non è stato tutt'oggi realizzato è un progetto che ha un'estensione in superficie di il 30% in più rispetto alla nostra attuale quindi wider è ovvio che avrebbe avuto potendolo fare avrebbe avuto piacere di mantenere quel tipo di superficie e chiedere l'elevazione e da qualche parte ci è stato detto che la cosa non era assolutamente possibile per essere presa in considerazione noi di fatto abbiamo chiesto di andare in sopraelevazione ci è stato detto che vuoi tu? no, non si può creare una cosa del genere e da qui è nato il compromesso che ci stringiamo quindi in qualche maniera dobbiamo subire un sacrificio rispetto a quelli che sono gli spazi che c'erano più congeniali e poter chiedere questa ma il limite dell'altezza è un vincolo importante nel senso senza quell'altezza non ha ragione per noi desistere il progetto anche per quanto riguarda l'iter stesso appunto noi l'abbiamo iniziato adesso ci saranno i tempi tecnici che sono fatti di autorizzazioni che diversi enti devono in sequenza o meno fornire mi auguro solo che si possa fare in fretta ma soprattutto che ci sia appunto un proposito di poter andare avanti o meno io non parlo dei tempi di Fano ma parlo dei tempi di Wider i tempi di Wider sono che noi dobbiamo costruire delle barche da consegnare nel 2025 abbiamo delle barche da costruire che devono essere consegnate il gennaio del 2023 se stiamo spingendo per farli a Fano se non è possibile farli a Fano il nostro malgrado noi li faremo altrove e concludiamo il nostro telegiornale con alcune notizie di sport dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro i membri del gruppo squadra precedentemente positivi al Covid-19 si sono negativizzati e hanno ripreso l'attività agonistica in squadra resta un solo elemento positivo al contagio e in isolamento allo stato attuale la VL può tornare in campo domenica alla Vitrifriguarena nel match delle 12 con Milano parliamo anche della Vis Pesaro che acquista a titolo definitivo il portiere Alessandro Farroni il 24enne Umbro è stato fin qui probabilmente il miglior giocatore della squadra bianco-rossa ed ora passa dall'essere in prestito dalla regina ad essere di proprietà della Vis con cui si lega fino a giugno 2025 contestualmente la Vis cede alla regina il difensore 23enne Federico Giraudo dopo un anno e mezzo trascorso a Pesaro eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma questa sera dovete assolutamente restare collegati su Rossini TV perché torna insieme a Canestro il nostro approfondimento sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in diretta vi ricordo in diretta alle ore 21.20 potete mandarci messaggi su Whatsapp al numero che vedete il consueto numero della redazione oppure guardarci anche attraverso la diretta Facebook e commentare commentare conviene perché potrete vincere dei fantastici premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro gli ospiti di questa sera sono Enzo Belloni questa sera in veste di allenatore WL Under 14 e poi German Scarone ex giocatore della WL vi ricordiamo anche che ogni venerdì alle ore 17.30 il sabato alle 10.30 e alle 16 la domenica alle 8 e alle 11 grazie al Don Marco Di Giorgio c'è la lettura e il commento al Vangelo della Domenica domani e venerdì c'è un grande ritorno quello del Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine il nostro approfondimento settimanale dedicato a questo grande territorio quindi l'appuntamento è per domani venerdì alle ore 20 e sabato vi ricordiamo che avrete la possibilità di seguire comodamente da casa vostra due momenti degli stati generali di mid term di metà mandato appunto del Comune di Pesaro potete collegarvi su Rossini TV alle ore 10 dove c'è la relazione introduttiva del Sindaco Matteo Ricci e poi anche alle 16 dove ci sarà la restituzione dei tavoli di lavoro da parte degli assessori del Comune di Pesaro ho detto davvero tutto allora buona serata continuate a restare collegati su Rossini TV l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina con la consueta rassegna stampa del mattino alle 7.20 di Pesaro